Il primo ad entrare nel box predisposto dal canile è stato Birba, il cagnolino che viveva con il gatto, risultato positivo all'Issavirus. E poi è arrivato Otto, lo scorso luglio, ed infine Chira, la cagnolina scappata di casa la notte di San Donato, spaventata dai forti rumori dello spettacolo pirotecnico. Assieme a loro anche altri amici a quattro zampe, costretti oggi in isolamento al canile della cella, gestito dall'EMPA. Sono infatti in tutto sette i cani che trovati vaganti dovranno restare in quarantena per sei mesi, che potrebbero scendere a due se verranno vaccinati contro la rabbia, così come è disposto dall'ordinanza firmata lo scorso 30 giugno dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, un'ordinanza di protezione sanitaria a seguito della morte del micio per il raro virus. Io l'appello chiaramente che faccio al sindaco è che si incontri prima possibile con l'istituzione sanitaria, ASL, veterinaria, in modo da poter trovare delle soluzioni non solo per Chira, ma abbiamo Otto, abbiamo Birba, che è stata la prima canina che è qui quindi da più tempo, e poi abbiamo quest'altri che sono senza microchip, comunque sono tutti animali che sono in isolamento e al di là che noi qui, essendo EMPA, cerchiamo di offrire a loro le miglior condizioni di vita, ma sì, io mi auguro che ci possa essere presto veramente una libertà diversa di quelli che sono costretti ora a vivere chiusi in un box. Le più volte vi siete schierati contro i fuochi d'artificio, forse quest'anno più che mai si potevano evitare con un'ordinanza in corso contro l'istavirus? Noi questo appello l'abbiamo fatto al sindaco, chiaramente le associazioni di Arezzo da sempre, come hai detto te, siamo contrari ai fuochi, quest'anno sì, io credo che c'è stata anche una mancanza di coerenza tra ciò che è stato detto prima in un'ordinanza, chiaramente imposta, ripeto, c'è di mezzo al Ministero e quanto poi stabilito nel fare i fuochi. Questi soldi forse, non lo so, potevano servire diversamente, comunque sicuramente al di là dell'impegno di spesa potevamo evitare una polemica che, ripeto, io ci voglio vedere solo il risvolto positivo che possa veramente portare a ragionare seriamente con il Ministero su questo tema.